Rieccoci, seconda parte di ci siamo, apriamo una parentesi che riguarda Marcello Lippi perché molti siti internet e molti giornali hanno ripreso la notizia di queste convocazioni di Marcello Lippi per la Lega Pro, la nazionale che giocherà mercoledì prossimo un amichevole contro la Palestina, poi Lippi, le notizie che leggiamo con Jessica Tozzi oggi ha rettificato. Jessica? Sì, diciamo che ha chiarito la sua posizione nei confronti della Lega Pro infatti ha dichiarato non ho nessun incarico con la Lega Pro, questa cosa è stata mal interpretata e magari strumentalizzata da qualcuno. Sono stato semplicemente invitato come ospite d'onore a vedere la partita e quando avrò la possibilità di farlo andrò a vedere queste gare senza alcun tipo di incarico. Schiera, cos'è questa presa di posizione? Io ho parlato con Marcello Lippi non più tardi di una settimana fa, infatti anche proprio per chiedere un'intervista per parlare di questo suo ruolo con la Lega Pro mi aveva precisato questa cosa che ha appena detto Jessica, lui in realtà è stato invitato come una sorta di guest star come succede in America per certi eventi, così seguirà la partita, dirà la sua, però non decide assolutamente né convocazioni né altro quindi è bene precisarlo, anzi alla ricerca di una panchina perché vuole rimettersi in gioco a livello internazionale, sogna una nazionale per disputare i mondiali del 2014 in Brasile. Da chi era uscita questa cosa? Oltretutto c'erano anche state delle parole di stima, di erogio da parte anche di alcuni dirigenti della Lega, no? A nostro avviso poteva anche evitare, ha fatto le convocazioni, si sedeva nella panchina di Lega Pro e basta, no? Però c'è anche un allenatore nella nazionale di Lega Pro che a quel punto si sarebbe magari sentito sminuito. A proposito di mister Lippi, andiamo a Viareggio, mister, dove la sua squadra ieri ha vinto 1-0 contro il Foligno partiamo proprio dal suo passato, perché mister Maurizzi un mese fa ha deciso di lasciare il Viareggio? Intanto è una decisione presa di un accordo con la società e credo che è inutile entrare nei particolari perché sono cose di spogliatoio, non c'era più sintonia tra me e una parte di alcuni calciatori. Io vedo il calcio in un certo modo, credo che le motivazioni siano anche date dall'ambiente, dal bisogno di un individuo di affermarsi, quindi faccio un lavoro abbastanza, secondo me, poi quello che dico è la mia verità e non è verità assoluta, credo che ci sia bisogno di molta professionalità nel calcio, questo in Lega Pro delle volte manca, io la pretendo e quando non ci sono le condizioni è inutile andare avanti. Scusa se te lo chiedo mister, stai facendo un riferimento ai giocatori sul discorso della professionalità o stai allargando un po' la cosa, è un discorso più in generale largo, voglio dire, tra dirigenti? No, no, guardi, allora io intanto innanzitutto a Via Reggio ho conosciuto un presidente che ha poco a che vedere con il mondo del calcio, una persona squisita sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista umano, poi professionale, una grande azienda, ma si occupa poco di calcio. Quello che ho trovato è un ambiente molto più familiare, un ambiente molto più così, dove magari si fa gruppo per fare meno, io pretendo molto. Meno professionale, va bene come definizione? Non proprio meno professionale, però comunque un ambiente più familiare, nel senso che secondo me ero troppo professionale per quell'ambiente. Nicolò Schira, il Via Reggio andrà avanti con questa guida tecnica fino alla fine della stagione? Sicuramente sì, c'erano stati diversi contatti con altri mister, come mister Tosi, come mister Favarin, poi si è scelto di continuare con l'ex tecnico delle giovanili, poi che aveva svolto anche il ruolo di secondo nelle scorse stagioni con il Bertolucci. È un Via Reggio che ha delle difficoltà, ma come dicevamo nel primo blocco della trasmissione, c'è un foligno che ormai è destinato alla retrocessione a meno di miracoli, anche se in società il DS Cherubini ha detto che è pronto a intervenire sul mercato, dunque vediamo con che risorse, perché comunque anche il foligno ha delle pendenze economiche da una situazione a livello societario non facile, riuscirà a invertire la rotta, anche perché il foligno sì potrebbe acquistare dei giocatori, ma potrebbe anche perdere alcune sue stelle. Tipo? Qualche nome? Tipo il capitano Matteo Cavagna che piace ai cugini della Ternana. Mister Maurizio, risposta secca, il Via Reggio si salverà? Non lo so. Non lo so, non si vuole esprimere, va bene. Ma però posso, mi fai dire una cosa velocissima Stefano, perché poi tante volte magari da casa non si riesce molto poi a comprendere cosa non funziona poi nel calcio, ma per l'amor di Dio non mi sto riferendo alla situazione del Via Reggio che conosce il mister. Ah, tra parentesi, scusami Guffanti, visto che devi avvisare tutti i tuoi amici, anche ci siamo, non da su Sky, nuovo canale 914, mi raccomando, alle 23 ogni lunedì. Lo farò di sicuro, però mi preme sempre che l'organizzazione sia anche tecnica di una società parte sempre proprio dalla dirigenza societaria. Io conosco il direttore sportivo e so che il direttore sportivo a Via Reggio è un direttore sportivo molto qualificato, molto competente perché oltretutto ha svolto anche negli ultimi anni un ruolo di osservatore in giro per i campi. Quindi da questo punto di vista ci tenevo insomma a precisare questa cosa. Poi quello che è avvenuto voglio dire a Via Reggio lo sa il mister. Chiudiamo con il girone A, Nicolò Schira, Pavia-Benevento che partita è stata, Pavia che era passato in vantaggio al settimo minuto con Falco. Sì, ecco qui il calcio di punizione magistrale di Falco, uno dei pochi a salvarsi in questo momento negativo del Pavia insieme al capitano Carotti. Ieri invece ho visto un gran bel Benevento. Simonelli ha rivoluzionato la squadra, si giocava molto perché in caso di sconfitta erano già pronti Ruotolo e Campilongo entrambi in tribuna a seguire la gara. Si giocava molto, ha deciso di lasciare fuori i senatori come Raicic, Lex Barletta e Bari, come Cipriani che è andato addirittura in tribuna, come Altinier che è andato in panchina. Dentro i giovani, penso a Vacca, talentuoso giocatore molto estroso classe 90, penso al centrocampista classe 91 De Rizio che ha una grande visione di gioco. Proprio i giovani sono stati trascinatori di questo Benevento che a mio avviso se continuerà su questa lunghezza d'onda uno dei cinque posti in chiave playoff se lo assicura certamente. Allora, siamo pronti a guardare anche i risultati del girone B, sempre di prima divisione, anche qui sei giocata la tredicesima giornata, andiamo da Jessica. Sì, leggiamoli subito, allora, pareggio a reti bianche tra Bassano e Spezia, colpo grosso del Prato che è andato a vincere a Salò, il Latino ha vinto in casa 2-1 col su Tirol di Stroppa, ha ritrovato invece la vittoria il Pergocrema che ha strappazzato in casa il Frosinone per 3-0, bella partita tra Portogruaro e Trapani che è finita 2-2, successi interni per Siracusa e Trestina che hanno piegato tra le mura amiche Barletta e Cremonese e punto pesantissimo quello conquistato dal Lanciano in casa con la Cararese. Eh sì, punto pesante per il Lanciano, vediamo la classifica perché adesso la squadra di Gautieri, vediamo la classifica per cortesia del girone B, la squadra di Gautieri è in testa a quota 22, poi Pergocrema, Siracusa e Cremonese, eccola qua, 21, Cararese su Tirol 20, questa è la zona playoff. Nelle retrovie troviamo in Latina la Triestina 15, il Piacenza 13, il Prato 12, l'Andrea 11, il Bassano 10, chiude la classifica il Feralpi che ha perso anche ieri in casa contro il Prato. Mister Maurizzi si aspettava di vedere il Lanciano in testa alla classifica, classifica cortissima. No, rispetto al girone A, anche se qui mancano i 6 punti della Cremonese, rispetto al girone A ci sono 6 punti di differenza tra le prime, tra il Lanciano e la prima del girone A che è la Dernana e non mi aspettavo il Lanciano, anche se poi è un girone molto equilibrato e quindi credo che gli episodi alla fine facciano la differenza tra, ci sono 7-8 squadre che possono raggiungere il primo posto e i playoff. Gautieri che si è trovato quasi per caso sulla panchina del Lanciano, doveva iniziare Nicolò la stagione, fra i giovani invece è stato lanciato. Gautieri è un tecnico che aveva fatto bene due anni fa ad Olbia, poi non trovando panchina stava accettando quella della primavera dell'Empoli, invece poi Lanciano all'ultimo clamorosamente dopo che Torricelli anche per problemi personali non ha potuto accettare la panchina abruzzese, si è trovato alla guida di questa squadra, una squadra fatta all'ultimo secondo del calciomercato con tanti addi eccellenti, è stata svecchiata da Rosa, è stata ringiovanita, sono stati anche ridimensionati i costi, eppure i rossoneri stanno facendo un grandissimo campionato praticando anche un calcio molto piacevole, insomma in pronta zemaniana in Gautieri. Aggiungo con un presidente donna attivissima al calcio, e beh diciamolo perché insomma anche... Ogni puntata, ogni puntata lo ricordiamo che c'è un presidente donna. Invitiamolo una volta così magari... Ma attivissima al calcio basato, ma era in riferimento a quanto diceva prima il mister che a Viareggio c'era un presidente che magari è... Assolutamente. A proposito di mister Gautieri, Jessica, cosa ha dichiarato a fine partita? Sì esatto, allora la domanda dell'obiettivo per questa stagione della squadra rossonera ha dichiarato, lo conoscete tutti, non è cambiato di una virgola, salvezza raggiunta, ne riparleremo. Ne riparleremo, dice mister Gautieri. Andiamo a Pergocrema, altra ex squadra di mister Maurizzi che l'anno scorso è riuscito a salvare dopo i play-out vinti con il Monza. Ma vabbè, possiamo dirlo, squadra rivoluzionata anche a livello di assetto societario, no mister? Credo che sia cambiato molto. Dei giocatori che l'anno scorso erano titolari della nostra squadra come Guerci, Mammetti, sono stati messi fuori rosa e anche Ceduti, quindi voglio dire è una squadra completamente nuova, hanno fatto degli ottimi acquisti, continuano ogni partita che perdono acquistano un calciatore, quindi voglio dire hanno ambizioni importanti e è una squadra, un tecnico molto preparato, credo che è anche la società che sappia fare calcio. Mi sembra però che abbiano pochi equilibri, mister, perché poi fondamentalmente nei numeri andiamo a vedere che sia il Pergocrema che la Triestina, che sono le due squadre che ieri hanno fatto il risultato in assoluto meno aspettato, viste le ultime prestazioni sia del Pergocrema che della Triestina, alla fine andiamo a vedere che nessuna delle due squadre ha mai pareggiato, a sempre, ho vinto o ho perso. Quindi da questo punto di vista è difficile che una squadra possa poi in realtà raggiungere degli obiettivi importanti se ogni tanto non ci mette qualche equilibrio. Certo, io ho avuto modo di vedere Frosinone e Cremonese e ho visto una squadra quadrata non con tantissimi nomi, anche se poi ci sono, ma è una squadra molto quadrata, molto organizzata e che mi ha fatto un'ottima impressione, quella della Cremonese. Una volta recuperata questa penalizzazione non so, credo che possa arrivare in alto perché l'ho vista veramente bene. Però ieri ci ha dimostrato di essere umana anche lei, perché ci sembrava sino a ieri che potesse essere l'unica squadra da non contare. Questo intanto è il gol di Ricci di cui vi abbiamo parlato prima, uno dei gol più belli sicuramente siglati in questo avvio di stagione in Lega Pro. Poi invece la sconfitta di ieri ci fa capire che anche la Cremonese, pur avendo un organico e sono d'accordo con il Ministero, molto importante, questo sarà proprio veramente come abbiamo spesso detto, il girone in assoluto che domenicalmente ci riserverà veramente. Anche Frosinone ha tante sorprese. Pensa Stefano che a metà classifica ci sono quattro squadre che hanno le stesse identiche con il numero di vittorie, di sconfitte e quasi gli stessi gol fatti e subiti. Dobbiamo andare in pubblicità, ci rivediamo tra poco con tante immagini. A tra poco.